Ben trovati da Tg della mobilità. E' scattata alle 17 la seconda fascia di garanzia dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. La protesta riprenderà alle 20 e si concluderà alla fine del servizio. All'agitazione sono interessate le reti Atac, Roma TPL e bus regionali Cotral. Stando alle rilevazioni della mattina, l'adesione del personale Atac risulta pari al 38,5%. Per quanto riguarda le attività al pubblico di Roma, servizi per la mobilità. E' chiuso il contact center 065700 pre-aggiornamenti in tempo reale anche su romamobilità.it.